Buonasera a tutti, è con grande soddisfazione che presento Matteo Fragoni, batteria e percussione, Emanuele Evangelista, tastiere pianoforte e contatto. Dunque, io sono Roberto Zichini, debbo in realtà questo progetto del tutto nuovo, inedito, a Matteo. Perché trattasi di una raccolta di brani e di un modo di fare musica, raccolto in questi anni durante tutta una serie di viaggi, da parte mia, abbastanza reiterati in Africa. E con Matteo ci siamo conosciuti, appunto, a proposito di uno di questi progetti a Bologna, abbiamo fatto una serie di concerti che poi sono diventati un po' un suo motivo progettuale. E quindi ci siamo ritrovati intorno a questo modo di fare musica che abbiamo raccolto non solo da idee originali, eccetera, eccetera, ma appunto da questi, come dire, innesti con culture lontane e apparentemente diverse dalla nostra. Questo brano in particolare, che si chiama Mra, è un brano sudafricano, il cui autore si chiama, scusate, Christopher Columbus Nagugana, ed è uno standard sudafricano che sentireste suonare tra Cape Town e Johannesburg da tutte le band, le band di rock, di jazz, le big band, arrangiato in mille modi diversi. È un po' quello che è successo poi con la cultura degli standard, propriamente detti, di identificabili con la cultura jazzistica. E l'anno scorso mi è successo, mi è capitata questa fortunatissima tournée in Sudafrica e ho raccolto una serie di brani. Matteo a sua volta ha fatto delle esperienze dello stesso genere in Senegal, poi a New York, eccetera, e l'è nata l'intenzione di perseguire questo obiettivo. Vi ripresento i musicisti, Matteo Fraboni, percussioni e batteria, Emanuele Evangelista, pianforte tastiere e tutto il resto. Suoniamo adesso un brano di Matteo Fraboni, che si intitola Umuntu, Umumuntu. Adesso lui mi spiega quello che vuol dire. E vai, non lo so dove, in mezzo al bosco. Buonasera, Umuntu, Umumuntu è parte di un proverbio della cultura Zulu del Centrafrica, il proverbio completo sarebbe Umuntu, Umumuntu, Umgabantu, che la traduzione letterale sta una persona e una persona attraverso le altre persone. Quindi è un concetto che nella società africana mi ha colpito molto e ho scritto un brano per omaggiare questa esperienza. È un brano coinciso nel disco a New York con un quintetto americano che questa sera riproponiamo insieme con Roberto e con Emanuele con questo trio da queste sonorità più sperimentali. Sì, grazie, buon ascolto. C'è il discorso che lì non c'è la corrente. C'è il discorso che lì non c'è la corrente. C'è la corrente, vuoi fare tutti i giorni. Allora, non scolta questa cosa. Lì è il discorso che risponde. In teoria ci dovrebbe essere un ragazzo che si chiama Ferdra. Che c'ha un inverter. Ok. Il problema qual è? Che oggi, dopo che ho chiamato questo letto, in realtà non c'è l'inverta, ma c'è un inverter che vanno a 12 volte. Allora, io ho chiamato Valerio. Ma Valerio, questo c'è un schienzo che non c'ha. Non si è ancora capita. Se capirà, la sera, domani, boh, non so. Quindi, nel schienzo che c'è quest'altra roba, deve quest'altra roba, che sgancia le sette momenti, che monti, sette men, con le nostre cose, mentre oggi prendi, arrivi, direi, arriva questo, 9 e mezzo, la roba è inizia alle 11, per tutto il tempo di fare tutto. Però devo capire, la situazione, certo. Devi capire, Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. a tutti. a tutti.